musica 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 ragazzi datemi una mano sono tipo lì fuori lì fuori certo ah ciao aiuto aiuto dove sei? aiuto casomai mi servirebbe un po' c'ho creeper creeper uccidilo un po' da mangiare tipo mi servirebbe porco vado che lag e cazzo è successo? non lo so io ti ho visto sparare in aria ma infatti ho detto sono partito su ti poi presente oltre il limite del mondo che vedi tutto nero e io ho visto che sei andato su oh am potresti ricoprire quel buco si hai da mangiare? si si vieni io si vai nelle cose dove sono morto le ho prese infatti io ok aspetta perchè c'è un momento di lag io sto facendo la casa ok ora io sto laggando mi sento bello adesso ora tocca a te trovarla via oh scappate 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 bravo bravo mio dio sono tipo un un bravo ok io sto facendo la casa comunque allora qui va così qua ah è l'attacco ok perfetto ok perfetto adesso muore qua comunque dopo dobbiamo andare a vedere anche miniera quando avremo finito la cosa perchè veramente a me serve qualcosa perfetto ora incomincio a mettere il corso qui perchè non ti puoi niente si è innamorato della casa si è innamorato della casa aiuto ok ok ehi che sai ma magari se non mi lasciate qua da solo sai vai dentro la casa niente basta gli piace la casa adesso sta dentro hai un po' di pietra te io si eh me la puoi dare c'è anche mi faccio una un'asce prendo ancora un po' di legno tipo non so come faccio ad avere 35 di pietrisco ma va bene lo stesso ok l'ho preso per te ora eh dobbiamo far così ok perfetto quindi va bene poi facciamo così boh adesso vedo in che materiale farlo ok 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 lo facciamo di un altro legno ehm va eh ma vallo non so là ci sono le betulle si ecco ma aspetta voglio solo provare una cosa ho visto degli alberi neri ecco l'avete ho visto più avanti ok perfetto c'ho già l'idea oh raccogliete tutto il legno di betulla quello bianco eh per dai io sto raccogliendo ok vado a prendere oh maiale oh maiale oh maiale cioè vedo prima com'è però dovrebbe essere una cosa bella ecco perfetto ho già iniziato male ecco piuttosto te ne do un po' beh prima che me ne fai raccogliere 120 blocchi lo provi perché sennò eh non so devi venirti e darmi un parere se ti piace o no così ci sta un tetto così prova a fare il tetto con gli scalini tetto con gli scalini? si sai che tipo fa l'effetto a tetto proprio oh guardate oh vi basta la legna è tipo lì fuori sulla cesta ma hai raccolto la betulla vero? si allora dovrebbe bastare comunque io inizio il secondo dov'è oh ipg sei dentro? penso di si no dico dentro in casa prova ad uscire e vedere sulla cesta ah ehm allora aspetta qua c'era un po' di legna non si sa perchè e guarda sull'ipg cioè si sull'ipg guarda sull'ipg guarda sulla cesta cosa? no contorno intendi tipo quanti blocchi di contorno ma non so allora fai per due di questi qua l'ender me e poi dentro facciamo bianco madonna l'ender me si è incazzato via 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 willive perché si cazzano come noi non gli facciamo niente sono tanto un po' bello tranquillo no forza forth ok è tipo così no? aspetta che guardo e poi dentro facciamo la legna con la lì bianca che un po' più bello ok devo andare giù a buttar qualche cosa di betulla per la legna seeing earth eh aspettate che guardo io ne ho due ah ok allora anzi uso anche le lastre un entrammir mi vuole stuprare No, forse ci bastano, adesso ti dico No, non ci bastano Boh, distrutto un albero dovrebbero già bastare Ne butti giù un altro, tanto per fare Sì, dai L'ho disboscato io quel posto Sì, ho visto che ci sono tipo 27 sapling in giro Ok, ne manca poco comunque Raffinato, no? Le assi, non quello... Sì, sì, quello lì bianco, c'è l'enderman comunque Ah Salve Dai, dove sono le pecore? No, grazie Ok, perfetto, la casa è praticamente finita, prendiamo solo più Aspetta, aspetta Ok, qua, tipo è successo il disastro fuori, ma copro io tranquillo allora Ok, ora ci siamo, ora va bene Quindi qua mettiamo questa e qua ne mettiamo un'altra E di conseguenza facciamo una cosa molto più figa Così, perfetto Allora, in questa cesta grande ci saranno tutti i materiali Tipo la terra, la lana e robe così Poi Poi Le armi le mettiamo Cioè, vabbè, qui mettiamo il cibo Esatto Il cibo, perfetto Poi qua mettiamo Le armi dove le mettiamo? Qua Sì, beh, non farla tanto Cioè, sì, sulla cesta piccola anche perché non sono tantissime le armi Eh, mettiamo le armi qua Armi o attrezzi Qua mettiamo tipo i semi, le canne da zucchero, gli arbocelli e robe così Ma anche gli attrezzi qua? Sì, 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 anche quello Poi qua invece mettiamo tipo le torce, robe così Le cose che, tipo i materiali schifosi E invece qua mettiamo l'argile e il carbone e robe così Va bene? Ok, quest'idea ci sta Assai Però devo fare una cosa prima Allora Facciamo che è così, tipo Eh, e poi Oh, facciamo che Tipo da qua Parte Ok Poi c'è Questo qua 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 Cigata Uno Quindi sarà Qua No Sbagliato Aspetta, sto Innovando No, che palle Allora, sarà così Uno Due Tre Così Perfetto E ora A metà Prova già a vedere A venire Vedere sotto Prova a scendere Guarda Aspetta che sto pensando una cosa Praticamente vorrei mettere Mettiamo il letto qua Ecco, e qua mettiamo la scalinata che sale e poi ci abbiamo letti Sto facendo tipo rifornimento di cibo io Allora, provo a far così Comunque se riesci a trovare tutte le pecore possibili, poi boh Ho otto lani Ok, così va bene E, aspetta, in teoria anche dieci, anche dieci Ok, portamene subito Piave Ok, perfetto